Il consigliere del Movimento 5 Stelle Firincelli, indignato per la situazione poco professionale che non si sta svolgendo per i controlli e la movida marina di Ragusa. Sono ormai settimane che con interventi in consiglio e sulla stampa, dichiara Firincelli, diciamo che la movida marina di Ragusa è fuori controllo e che l'aspetto delle risse e dei contatti della folla non è secondario, così come la mancanza delle mascherine. Dopo la notizia del ragazzo di 19 anni positivo al Covid, il sindaco ha cominciato a lamentare e sottolineare l'importanza delle regole restrittive, ma a quanto pare, continua ancora il consigliere, è tutto un predicare bene e razzolare male, visto che gli stesso è il primo a non rispettare le dovute restrizioni. Sono ormai diversi weekend, subito dopo il lockdown, ha scritto Firincelli, che il borgo marinaro di Marina di Ragusa è scelto dai cittadini ragusani e da molti turisti, per lo più siciliani e dei comuni limitrofi. L'enorme massa di individui, se non opportunatamente gestita e controllata, può dare spazio alle attività spiacevoli di alcuni balordi, potenzialmente sotto l'effetto di alcolici o di sostanze stupefacenti, creando tensioni, risse e danni al patrimonio privato e scorreggiando la frizione dei luoghi deputati al passeggio da parte di visitatori, famiglie e adolescenti. I controlli sono sollecitati, tenuto conto che il sindaco è responsabile della sicurezza su tutto il territorio del comune e dopo aver preso atto che l'ordinaria attività da parte della polizia locale risulta insufficiente per la vastità del territorio in cui è necessario vigilare. E Firincelli prosegue. Nessuno vuole ritornare al lockdown, ma i numeri relativi all'indice di contagiosità stanno cominciando a diventare davvero preoccupanti. La vera tutela avviene lavando le mani, usando le mascherine, evitando il contatto e soprattutto attraverso il rispetto delle regole che non possiamo continuare a interpretare a nostro uso e consumo. Una cosa è certa, troppo permissivismo non va bene. È troppo importante rispettare le regole per non precipitare di nuovo nell'incubo lockdown che avrebbe conseguenze devastanti per tutti.